Sala del Consiglio Comunale di Pescara gremita per il convegno organizzato dalla regione dal titolo la sicurezza al centro comuni stato e regioni insieme fra i relatori il sottosegretario Marco Minniti autorità delegata per la sicurezza della repubblica ed il vice capo vicario della polizia di stato Luigi Savina abruzzese doc Minniti non ha nascosto l'importanza del problema immigrazione dicendo che solidarietà e sicurezza sono due facce della stessa medaglia la lotta alla povertà è uno degli elementi fondamentali per le politiche di sicurezza cioè c'è un intreccio tra tutte queste questioni è importante che una piazza ci sia una macchina delle forze dell'ordine ma è anche tanto importante che quella piazza sia illuminata le forze dell'ordine li manda il ministero dell'interno la piazza illuminata ci pensano i sindici in collaborazione con gli enti regionali se noi dobbiamo costruire questa idea è un'idea moderna e a mio avviso non solo un'idea moderna ma soprattutto un'idea efficace il vice capo della polizia Savina ha parlato del suo abruzzo come di una regione abitata da gente per bene dove per questo la malavita non è riuscita ad attecchire non passa perché questa è una regione fatta di persone per bene di persone strutturate di persone che rispettano le regole e perché sono brave con le forze dell'ordine tutte le forze dell'ordine non soltanto la polizia ma anche i carabinieri anche la guardia di finanza la squadra dello stato qui è altamente efficiente legge deve essere sinomino di giustizia